Più interessante è la voce, eh? Piano ragazzi, voi. Continuate. Meraviglia. Eh sì, perché i pezzi degli schiantos erano semplici, no? Tutti dovevano accostarsi. Era veramente open la loro musica. Vedete? Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.